La situazione è stata montata alle stelle, a parte che sui giornali sono stati fatti nomi e cognomi e parlano di denunce, di querele, parlano di esposti fra me e i locali a fianco, quando personalmente io non ho mai fatto un esposto in vita mia, non so neanche come si fanno. Troppe cose raccontate non corrispondono alla realtà, ha esordito così Raffello Caccese, titolare della birreria Rakanasa, sogna di fano, finito al centro delle polemiche per i fuochi d'artificio, fatti esplodere martedì 3 agosto. Si è parlato anche di un rogo, ha detto l'imprenditore, ma i fatti parlano chiaro, Caccese ha sparato dei botti dal tetto dell'exoter Roma per festeggiare il compleanno di sua figlia, erano le 20.20, ha precisato, e non le ore 23 come è stato riportato in questi giorni. Come tutti gli anni per il regalo del suo compleanno sparo dei fuochi protecnici, ovviamente legali, comprati su internet, con la categoria F2, che è una categoria di una fascia di vendita libera, con nessun obbligo di patentino o nessun obbligo di autorizzazione da parte di enti comunali o delle forze dell'ordine. Anche perché prima di spararli ho preso l'accortezza di chiamare tutte le forze dell'ordine, compreso i pompieri e compreso la guardia costiera, proprio per non avere problemi nel futuro. E quella sera, giunto il 35enne, non c'è stato nessun incendio. Le batterie sono fatte di carta, dopo lo spettacolo noi abbiamo buttato l'acqua per raffreddarla, però una delle batterie fumava ancora. Quando sono stato avvertito di questo, io mi sono recato subito nell'hotel, ho preso, ci sono degli estintori con la sabbia dentro che si buttano sopra, è un secchio d'acqua ed è finita là. Dopo sono arrivati i pompieri chiamati da persone che forse volevano screditare la mia persona e il mio locale, facendo allarmismo, un finto allarmismo, perché questi fuochi pirotecnici sono fuochi che non rilasciano la pilli incandescenti e non rilasciano nessuna traccia dopo che esplodono, perché sono proprio fatti apposta per essere sparati in luoghi pubblici. Invece per l'accesso all'hotel oggi dismesso a proseguito Caccese avevo chiesto il permesso al titolare Oscar Ascenzi, che è lo stesso proprietario del locale in cui lavoro. È stato denunciato? Allora, io non ho subito nessuna denuncia da parte dell'autorità, anche perché ci sono delle indagini in corso, non nei miei confronti, ma ci sono delle indagini che devono fare i vigili del fuoco con la polizia per capire se questi fuochi erano legali. Però queste cose sono cose che sapranno solo loro, quindi vi posso confermare che io non ho subito nessuna querera da parte di nessuna forza dell'ordine, anche perché ultimamente abbiamo subito molti controlli da parte delle forze dell'ordine, chiamati da chi non so. Sono venuti sette, otto volte a fare i controlli e gli esiti sono stati sempre negativi. Ha paura che qualcuno sta segnalando qualche situazione particolare o strana nei suoi confronti? Allora, siccome stiamo lavorando e siamo dei ragazzi, ci piace divertire, mettiamo la musica sempre nei limiti delle regole del Covid, qualcuno gli può dare fastidio. Fano non è solo la città delle famiglie, Fano è anche la città dei ragazzi. Devono cambiare il pensiero, devono pensare che è anche la città dei ragazzi, che esistono i ragazzi.